Grazie a tutti Ah, e fa vederlo il mio Questo era ridotto come quello Però poi io l'ho restaurato, io e il mio amico Lo proviamo? Frizione? Eh? È un problema? Sì, rimane bloccata la frizione E non entrava ventina Ma va come cacchio qua? Il minimo, papapapap Sì, la frizione rimane bloccata La frizione rimane incollata Adesso la accendiamo a spinta, ok? Siediti, va Poi va bene, è come il moschito Oh, madonna 50 anni di motorino Apri, apri Madonna Madonna, 50 anni di motorino Va, 50 anni di motorino Arrugginito che va Vai, è partita la bestia 50 anni di motorino Ma come gira? Accelera al massimo Praticamente è dei modi di rialzare Ma senti che Non va tanto? Va Vediamo, proviamo Accelera al massimo Voglio sentirla Alza Alza No, io non l'ho ancora usato Non c'è mai usato Semmai Ma va come va Parte della, ma do Ehi Mil Mil Mil, come va? No principalmente Non c'è mai usato Alza AGH E' un silencio Ah E' un solo un amore ora si può andare lì lì dove dovevo andare ma fa alzalo mettilo sul cavalletto vediamo come va fuori giri madonna come impenna e ammazza mettilo sul cavalletto vedi come va fuori giri chi 54 anni di motorino si fanno sentire mettilo sul cavalletto benissimo mettilo sul cavalletto vedi quanto va sui giri a mezzucco no 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 va benissimo va benissimo il motore il minimo quanto è avvitato ma no è svitato cacchio è svitato oh qua è nuovo il motore cazzo che fasce elastiche anzi è pure alto il minimo ma senti che bello al minimo altissimo abbassalo appena lo sto accelerando così basta alzalo senti che sembra che sembrano quattro tempi sentilo il minimo quanto è svitato eh l'è svitatissimo eh l'è svitatissimo mica quanto va fuori giri madonna oh fuma un po' aspetta che c'è la pipetta messa male ecco sai che non ha la frizione sai che la frizione è un'altra cosa qua la frizione minchia fuma oh si vede che fermo da tanto guarda la cazzo il moto che funziona e davide dice che questo qua era una merda eh l'ha messo un motorino di merda moderno e la madonna ma come va si devi ricordarti oh mi tieni il video così e io lo provo eh eh se l'unica cosa è la frizione che cos'è che ha eh si ha le molle troppo molli e si incolla subito e rimane incollata praticamente cioè la frizione ha le molle troppo molli bisognerebbe cambiare ma perché vedi lo metti per dare e si spegne no e rimane attaccata vediamo se lo fai piano anzi anche così vabbè la frizione qua la frizione va però ci sono da cambiare le mollettine cazzo ma va che è una bestia e che non l'hai mandato su di giri al massimo tu lo sai quello rosso? quello rosso non andava quello da Gianni per che si chiama Gianni come per fare scambio grazie a tutti